Ciao a tutti ragazzi qui è Billy Bulli che vi parla, sono stracontento perché finalmente è arrivato per voi il corso, il video corso per imparare a ballare Ballo da sballo, in 10 minuti impari a ballare, questo è per tutti quelli che non sanno fare 2, 3, 4, 2 passetti e sono sempre timidi per lanciarsi con qualche ragazzina, qualche donna, hai capito? Allora questa è per voi ragazzi, bene allora io in 10 minuti chiaramente mi sono già preparato il necessario per fare questo video ma portiamoci subito nella zona dove lavoreremo coi fianchi qui eccolo qua, 1, 2, 3, 4 e allora si parte vai tutto in un sorso, forza E adesso vai giù di birra, tutto in un sorso vai senza storie vai Attaccati alla cannuccia adesso, tutto in un sorso I sortini vai, 1, 2, 3, 4 e allora adesso siamo arrivati alla tequila, 2 volte la tequila, 1 e 2 tequila adesso lo mettiamoci, pronti? Adesso bisogna indossare le scarpette quelle professionali, io consiglio questo modello perché si sta belli freschi e comodi e si fa sempre una bella figura Adesso mi giro un po' la testa ma siamo pronti per ballare Adesso mi giro un po' la testa ma sono contento, vi avevi regalato un sorriso anche oggi e vi ho insegnato a ballare, ciao vi voglio bene, billy bully Dove Grazie.